Facciamo uno per uno, vai! Vai! Ciao Bibanni! Vai! Ciao Bibanni! Cioè Giulia ha già... Ciao Bibanni! Marina è quella più preparata! Ciao Bibanni! La stai mozzicando? Ma io non l'ho mozzicata, Giulia! Ciao Bibanni! Ciao Bibanni! Ci si è allenata, lui? Ha fatto la dieta, cioè... Ciao Bibanni! Miriam! Ciao Bibanni! Ehm... Guarda bello! Ciao Bibanni! Ciao Bibanni! Porta un po' qua! Come faccio? Quanto stiamo qua? Ciao Bibanni! Sono lì con... Secondo me qualcuno si strozza! Ciao Bibanni! Guarda! Regà c'è l'erbo, è schifo! Ciao Bibanni! Che schifo! Chiudi qua cazzo di bocca! Guarda Alessia! Bah Alè è finito il turno tuo! Ciao Bibanni! Guarda Alessia! Rifornimento! Ciao Bibanni! Alè girate... Sul tavolo! Guardi Giulia! Non puoi masticare! Non masticare! Giulia è barato! È proprio un Giuda! Ciao Bibanni! Guarda! Sì lo so! Ciao Bibanni! Tu fai poco schifo! Lo so! Sei brutti! Vai! Capi i banni! Ricordabile! Guarda! Adessia! Tirati! Capi i banni! Vai dirati! Capi i banni! Mmm! Capi i banni! Ma io lo faccio io! Capi i banni! Non piange però! Oddio! Lei sei bruttissima! Oddio! Mi ha da compito! Guardate! Troppo bene! Mi stanno a far schifo i marshmallow per quanto fa schifo! Non puoi mangiare! Oddio! Che schifo! Guarda! Troppo buono! Non mi mangio più! Dammi un po' di marshmallow! Che schifo! Ah cazzo! Che cazzo sta fuori! Che schifo! Ti sa! Mi ha perso! Mi sono rimasti due! Dammeli! Giulia si è ritirata! Grazie! Apri la bocca la telecamera! Apri la bocca la telecamera Giulia! Sì! Oh no! Io devo risparmi! Mi hai detto che le bete vomito! Apri la bocca le! Sembra un castoro! Sì! Sputateli ora! Ti prego lontano! No! Non là dentro! Mi stanno affannando se la faccio uno! Spratto! 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 Che schifo! Che schifo! Lo ha spratto da dentro! Sì! Arciate! Arciate! Vai la sputare! Non qua! Ha vinto Marina! Sì! che schifo regà che merda ce l'hai in faccia che schifo ti sei sputata in faccia regalo del schifo che schifo che schifo fai schifo uguale infatti io sono un'intelligenza non c'è proprio manco io li mangio normalmente c'era un momento che non riuscivo ne a ingoiarli che a spudarli infatti non dovevi ingoiarli a barona quando l'avevo già perso per quella sport no te se le vanno no rega che schifo che schifo regà che schifo che fate no su quello come hai fatto a spudarti addosso perchè trovo a farlo no 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 no